Sentiamo adesso Pietro Forestino che porta voce dei Fratelli d'Italia nazionale d'Augusta, alleanza nazionale, Fratelli d'Italia, ormai siete un unico slogan, Fratelli d'Italia alleanza nazionale, volendo recuperare un unico movimento che mette insieme la tradizione della destra con la modernità di Fratelli d'Italia. Ecco, avete anche ricevuto gli apporti sotto forma di contributo da parte di molti che sono in Sicilia, Palermo, Enna, Messina, adesso come vi volete muovere? Poi avete raccolto 2.000 firme qui ad Augusta, sono consegnate proprio qui, siamo nella sede del municipio di Augusta, adesso Lemano parlava di firme da raccogliere tutta la Sicilia, qui cosa farete di concreto se avete in mente qualcosa? Comincerete da qui per andare verso la Sicilia fino a Messina, fino a Enna, fino a Palermo? Augusta è stato il progetto pilota in questa iniziativa per fermare Mare Nostrum e chiedere il blocco navale dei porti di partenza, l'installazione di presidi internazionali delle Nazioni Unite lungo le coste nordafricane per decidere prima chi ha diritto alla richiesta di asilo o meno e per introdurre il divieto di realizzare centri d'accoglienza in comuni con particolari drammaticità, come già Augusta subisce da decenni, legati all'inquinamento ambientale, al debito pubblico, all'altissimo tasso di disoccupazione, che è sempre bene ricordare che questi fondi o vengono destinati alla gestione di questa immigrazione indiscriminata o vengono destinati a creare un'opportunità di lavoro per quegli oltre 7.000 disoccupati che ci sono ad Augusta e iscritti al centro per l'impiego. Sì, sono 7.000 più oltre 4.000 non occupati, la situazione è grave. E quindi allora adesso sarete in movimento tutto agosto e settembre? Augusta è stato il progetto pilota, la prima realtà di Fratelli d'Italia in cui sono raccolte le firme sulla petizione che ormai tutti ben conoscono. Adesso stanno raccogliendo le firme a Piazza Armerina, a Denna, inizieranno a Modica e a Ragusa, proseguiranno a Messina e a Palermo. Stiamo creando una rete di contatti per fermare l'operazione Mare Nostrum e chiedere che la Sicilia intera non diventi la nuova Lampedusa come isola riproposta in termini più grandi e a settembre probabilmente, penso di poterlo annunciare sin da ora, promuoveremo una manifestazione regionale aperta a tutti i comitati, promossa da Fratelli d'Italia ma aperta a tutti i comitati e all'associazionismo civico.